cari amici buona giornata anche oggi ascoltiamo un testo del vangelo di san luca in quel tempo si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda e gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto quindi ciò che avete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze dico a voi amici miei non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla vi mostrerò invece chi di chi dovete avere paura temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna sì ve lo dico temete costui cinque passeri non si vendono forse per due soldi eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a dio anche i capelli del vostro capo sono tutti contati non abbiate paura valete più di molti passeri migliaia di persone si accalcano e gesù nel suo viaggio verso gerusalemme è continuamente assediato dalle persone egli aveva già detto ai discepoli il motivo del viaggio stavano andando a gerusalemme dove gesù sarebbe stato ucciso ma che cosa potevano pensare discepoli di fronte alla massa di gente che accorreva che addirittura si calpestavano pur di toccare gesù che l'entusiasmo della folla non era calato da quando gesù aveva chiesto una barca per predicare e per non essere schiacciato appunto predicava dalla barca forse nella mente dei discepoli poteva affiorare un pensiero non è proprio vero che il maestro sarà ucciso il maestro ottiene successo tante persone lo seguono e probabilmente godevano del successo che in quel momento li toccava e lasciavano la prospettiva della passione lontana dalla loro vita gesù approfitta di quella situazione per dare degli insegnamenti innanzitutto con un ammonimento che prende come immagine il lievito gesù ha già usato questa immagine quando ha parlato del regno il regno come un po di lievito che nascosto nella massa della pasta la fa fermentare lievitare e con poco lievito si fa cibo si fa pane per tantissime persone in quel caso il lievito era stato usato per sottolineare la vitalità di un inizio piccolo ma che poi avrebbe raggiunto risultati enormi adesso l'immagine del lievito viene usata per mettere in guardia dal pericolo tipico dei farisei l'ipocrisia gesù spiega che l'ipocrisia è separare l'interno dall'esterno il segreto dal conosciuto il lievito infatti agisce all'interno della pasta con una azione che non è visibile agli occhi così l'ipocrisia quando si pongono degli atti esterni buoni corretti in fondo tanta gente andava da gesù ma poi nella vita si ha un atteggiamento segreto interno corrotto fatto di desideri di avidità di supervia di lussuria l'ipocrita è colui che per che fa camminare insieme due aspetti della vita una facciata esterna pulita una segreta in cui si lascia andare a desideri ingiusti e questa è una malattia un pericolo proprio per le persone che vogliono apparire buone come erano i farisei che vogliono essere gente che vada a gesù ma appunto c'è il pericolo di vivere una fedeltà alla verità al bene nessuno esteriore senza la volontà di cambiare dentro così le persone che vanno da gesù alcune persone che vanno da gesù ascoltano ma non fanno gesù l'ha già ripetuto questo gesù li ha paragonati a dei sepolcri la gente ci passa sopra senza accorgersi così possiamo essere persone sepolcri le persone ci passano vicino e ci pensano persone buone e invece dentro di noi c'è peccato c'è disobbedienza nascosta gesù usa in questo caso una particolare strada un particolare metodo per aiutarci a vincere l'ipocrisia ci fa prendere un po di paura nel senso che ci avvisa ricordatevi che non ci sarà niente nessuno dei vostri desideri nessun vostro pensiero nessuna vostra azione nessuna parola bisbigliata che adesso avviene tutte queste cose adesso avvengono nel nascondimento che poi non saranno annunciate a tutti tutto sarà udito in piena luce tutto sarà annunciato dalla terrazza usa un po quel metodo che è impiegato da alcuni giornalisti da alcuni servizi giornalistici in cui appunto si usa una telecamera nascosta per svelare segreti imbarazzanti per persone che sono coinvolte in situazione di imbroglio di moralità e che si trovano poi svelate manifestate apertamente davanti a tutti nella televisione dunque una paura che il signore ci insinua o meglio ancora la certezza che le nostre azioni avranno un momento in cui davanti al signore davanti al padre diventeranno luce e non ci saranno segreti questo ci deve aiutare nell'impegno della sincerità non basta che sia pura la mano è necessario che sia pura anche il cuore siccome siamo tutti fragili la comunità cristiana ci offre un luogo per fare un esercizio capace di vincere l'ipocrisia è l'atto della confessione quando uno fa verità su se stesso quando non si nasconde riconosce e chiama per nome il suo difetto la sua colpa e lo fa sapendo di poter contare sulla misericordia sul perdono ma anche su una forza che lo aiuta a purificare i desideri e ad abbandonare condotte cattive Gesù dunque aiuta i discepoli a capire che non si devono gloriare sui grandi numeri l'adesione a lui infatti può essere ipocrita non vera il momento della verifica della amicizia con Gesù è il momento della persecuzione momento della passione il momento della passione le folle infatti abbandoneranno Gesù perché non hanno un'adesione intima profonda Gesù insegna allora non soltanto a combattere l'ipocrisia ma anche a combattere la paura non abbiate paura dice ai discepoli miei amici li chiama guardate i passeri del cielo nessuno di loro è dimenticato dal padre guardate i capelli del vostro capo sono contatti tutti due immagini uccelli del cielo capelli per dire che noi valiamo per il padre discepoli camminando verso Gerusalemme dove Gesù morirà in croce imparano il coraggio imparano a vincere il timore anche se lo fa in modo bello Gesù ci insegna a vincere il timore perché Dio è padre e non ci dimentica conta anche i nostri capelli però questo modo con cui Gesù insegna a vincere il timore è bello ma anche è drammatico perché dice per vincere la paura gli altri al massimo possono uccidere il corpo e dopo non possono fare più nulla è drammatico perché in realtà a noi interessa prima il corpo siamo timorosi per il male appunto che può capitare il nostro corpo se rimaniamo in questa prospettiva non possiamo vincere la paura la cura che il padre ha di noi non è un'assicurazione che il nostro corpo non soffrirà di Gesù è invece la certezza che il nostro destino è la resurrezione questa è la cura che Gesù indica per vincere la paura questo ci assicura appunto la cura di Dio solo questa prospettiva che diventa certezza può liberare dalla paura e invece Gesù insegna a temere chi che Gesù qui non dice il nome può uccidere il corpo e l'anima cioè toglierci dalla prospettiva della resurrezione allontanarci dal padre farci peccare abbiamo un nemico che ci può gettare nella Genna Genna era la valle a sud ovest di Gerusalemme dove veniva bruciata la spezzatura ed era diventata questa valle il segno dell'inferno la nostra vita ha un nemico che fa di tutto per impedirgli il destino glorioso della resurrezione per questo Gesù ci ha insegnato anche oggi diciamolo con fede ogni giorno non ci indurre in tentazione non abbandonarci nella tentazione per vincere la paura avendo con certezza la prospettiva che un giorno saremo con il padre 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 15 18 20